Ebbene, dovete pensare che a Euro Disney ogni anno 10 milioni di famiglie vanno per i propri figli a Parigi e poi si recano anche a Parigi, ma ci vanno per Euro Disney, lì si spendono soldi e allora noi abbiamo una grande sfida di fronte, nei prossimi 5 anni dobbiamo realizzare infrastrutture legate al turismo, cioè che siano in grado di ricevere anche quel tipo di turismo che oggi sfugge a una realtà come quella del Lazio, che ricordiamolo ha il 50% del patrimonio dell'umanità, se non facessimo questo saremmo un po' fessacchiotti dal punto di vista politico. Considerate che ci sono 750 milioni di turisti oggi e la previsione nei prossimi 15 anni è per 2 miliardi di turisti, dovremo avere la capacità di intercettare fortemente questo segmento che tra l'altro dà centinaia di miliardi di posti di lavoro non precari ma stabili. Sulla mobilità non c'è alcun dubbio, bisogna continuare sul lavoro già fatto, potenziandolo e mettendo in campo più risorse se possibile e questo ci riuscirà se riusciremo a uscire fuori dal buco di bilancio creato dalla precedente amministrazione Storace che ricordiamo ci ha regalato un commissario ad acta già dal 2006, mettere in campo risorse per infrastrutturare sempre di più le linee del ferro, per consentire ai pendolari in primo luogo di essere cittadini di serie B che già devono sobbarcarsi l'onere di venire dall'Internet verso Roma ma in più lo fanno in condizioni non certamente gradevoli. Oltre all'infrastruttura del ferro potenziare anche i parcheggi di scambio che ci sono lungo questi assi e lo dobbiamo fare utilizzando anche le risorse private perché io penso a parcheggi imponenti e importanti dove ci siano anche un tabaccaio, una farmacia, un meccanico, altre funzioni, vuol dire altri posti di lavoro e che in più mettono in sicurezza i parcheggi che per il più oggi sono desonatamente incustoditi. Noi abbiamo una grande potenzialità, vanno messe in rete tutte queste cose, devono dialogare tra di loro e non possiamo perdere un patrimonio come quello dell'agricoltura ma dobbiamo lavorare affinché i prodotti che vengono e sono anche selezionati e di qualità possono avere anche un mercato oltre confine. Quindi dobbiamo lavorare sul marchio DOC e dare il marchio DOC a quelle realtà come la zona per esempio di Cervetri che fa un ottimo vino ma che non ha avuto questa possibilità confermare il marchio DOC degli altri vini che abbiamo, mettere insieme tutte le realtà agricole che producono prodotti che non solo sono buoni, sono eccellenti, quindi incentivare il mercato interno ma promuovere questi prodotti verso il mercato esterno, mettere in rete, ambiente, agricoltura con turismo perché questo è un grandissimo patrimonio, può dare ulteriori posti di lavoro anche in settori che oggi sono in crisi. In primo luogo una norma che riattivi i progetti di finanza sui parcheggi di scambio delle ferrovie perché questo ci darà modo di mettere in campo risorse private, creare posti di lavoro e consentire ai pendolari di arrivare meglio presso i posti di lavoro. Un'altra legge sarà per modificare taluni parametri che riguardano le case e le residenze per anziani che oggi sono troppo congenti e non consentono ai privati di lavorare al meglio di rendere un servizio che è utilissimo per la cittadinanza e poi c'è una piccola legge che in realtà è un piccolo segno di civiltà e riguarda coloro che non ci sono più, cioè quando muore una persona, se muore dentro casa il ferro rimane dentro casa se gli capita di morire il venerdì, quindi al venerdì e alla domenica le famiglie sono costrette a tenersi la persona dentro casa. Ebbene, in altri paesi ci sono le cosiddette case funerarie che sono dei luoghi assolutamente civilissimi dove è possibile portare il congiunto in attesa che venga svolto il federale cattolico o comunque venga svolto altro tipo di funerale nel caso di altre religioni. In altre regioni questa legge è stata approvata all'unanimità io lo vorrei fare anche in questa regione. Ripeto, un piccolo segnale di civiltà. Noi abbiamo attualmente quattro inceneritori, due nella zona del Frusinate e per paradosso lì dove ci sono gli inceneritori c'è la più piccola e la più bassa percentuale di raccolta differenziata. Noi diciamo questo, i quattro inceneritori sono oggi sufficienti a petto che aumenti la raccolta differenziata. Sull'inceneritore albano abbiamo moltissimi dubbi, la mia posizione personale è contraria. Il PDN non ha presentato in tempo la lista, oggi pretende di rientrare nei termini, io dico che cambiare le regole in corso d'opera è quanto di più grave ci possa essere. Si è inventato un decreto interpretativo, lo leggeremo probabilmente e prossimamente nei libri anche per chi farà giurisprudenza, sicuramente sarà una pagina nera che ricorderemo negli annali della storia. Ripeto, violare e cambiare le regole in corso d'opera è un fortissimo vulnus verso le regole democratiche. Le regole servono per i più deboli. Abbiamo visto che i più forti possono farne a meno, ma noi che crediamo fermamente invece nelle regole della democrazia vogliamo che appunto queste regole valgano per gli ultimi ma anche e soprattutto per i primi. Il PD è ancora un progetto per così dire in divenire, però paradossalmente vediamo che oggi il conflitto interno al PDL è superiore a quello del PD. Stiamo cercando di rimettere sulla dritta via, sulla giusta rotta quello che era il progetto iniziale che tutti quanti e molti cittadini hanno condiviso. Perché votare pane caldo? Io sono consigliere comunale da alcuni anni, mi sono occupato con Veltroni del tema dei parcheggi e delle politiche della sosta, penso di averlo fatto bene, tanto di aver meritato nel 2007 un premio come miglior amministratore capitolino. E questo non da una congede di amici ma da una serie di associazioni. Penso di poter portare l'esperienza che molti colleghi anche di centrodestra mi riconoscono. La passione è rimasta inalterata e forse la voglia di incidere in un ente come quello regionale che è appunto un ente legislativo c'è più di qualche anno fa. Perché la regione conta veramente molto, può cambiare assetti e attraverso l'intervento legislativo può mettere in campo regole che possono aiutare in primo luogo gli ultimi. Questa è una cosa da quale voglio veramente occuparmi. Mi sono imbattuto qualche mese fa in una persona che ha vissuto un dramma enorme, quello della morte di un figlio che si è suicidato e si è suicidato perché era malato di una grave malattia psicologica. Ebbene questa persona mi ha riconosciuto e mi ha fermato e mi ha detto che lei si deve occupare degli ultimi. E quando gli ho chiesto cosa intendesse appunto mi ha raccontato la sua storia. Siccome certe cose non capitano per caso sono venuto poi a scoprire che ci sono 2.500 persone malate di malattie psicologiche che stanno in galera. Ci sono 15 famiglie ogni mille che vivono questo dramma. Ebbene la regione Lazio in un secolo che è quello ventunesimo ha il dovere morale di stare vicino appunto a queste famiglie. Queste famiglie che hanno gravi problemi dentro casa con malattie psicologiche ma anche chi ha problemi con i anziani, chi ha problemi con gravi handicap dentro casa appunto noi non possiamo lasciarli di fatto soli perché anche se le amministrazioni sono vicine quella vicinanza non è sufficiente. Ebbene per me invece sarà una missione nei prossimi 5 anni a cui credo fermamente.